capitolo primo come andò che mastro ci viaggia falegname trovò un pezzo di legno che piangeva rideva come un bambino c'era una volta urrà diranno subito i miei piccoli lettori no ragazzi avete sbagliato c'era una volta un pezzo di legno non era un legno di lusso ma un semplice pezzo da catasta di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe nei caminetti per accendere il fuoco che per riscaldare le stanze non so come andasse ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname il quale aveva nome mastro antonio se non che tutti lo chiamavano mastro ciliegia per via della punta del suo naso che era sempre lustre e paonazza come una ciliegia matura appena mastro ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno si rallegrò tutto e dandosi una fregatina di mani per la contentezza borbottò a mezza voce questo legno è capitato a tempo voglio servirvene per fare una gamba di tavolino detto fatto prese subito la sciarrotata per cominciare a levare la scorsa e digrossarlo ma quando fu lì per lasciare andare la prima sciata rimase col braccio sospeso in aria perché sentì una vocina sottile sottile che disse raccomandandosi non mi picchiare tanto forte figuratevi come rimase quel buon vecchio di mastro ciliegia tirò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina e non vide nessuno guardò sotto il banco e nessuno guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno guardò nel corbello dei trucili della segatura e nessuno apri l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno o dunque ho capito disse allora ridendosi e grattandosi la parrucca si vede che quella vocina me la son figurata io rimettiamoci a lavorare e ripresa l'asce in mano tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno oi tu mi hai fatto male gridò ramaricandosi la solita vocina questa volta mastro ciliegia resto di stucco con gli occhi fuori dal capo per la paura con la bocca spalancata e con la lingua cendoloni finalmente come un mascherone da fontana appena riebbe l'uso della parola cominciò a dire tremando e balbettando dello spavento ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi eppure qui non c'è anima viva che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere a lamentarsi come un bambino io non lo posso credere questo legno eccolo qui è un pezzo di legno da caminetto come tutti gli altri e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli o dunque che ci sia nascosto dentro qualcuno se c'è nascosto qualcuno tanto peggio per lui ora l'accomodo io e così dicendo agguontò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si possa sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza poi si messe in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse aspetto due minuti e nulla 5 minuti e nulla 10 minuti e nulla ho capito disse allora sforzandosi di ridere arruffandosi la parrucca si vede che quella vocina che ha detto oi me la son figurata io rimettiamoci a lavorare e perché gli era entrata addosso una gran paura si provò a cantarellare per farsi un po di coraggio intanto posata da una parte lascia prese in mano la pialla per piallare a tirare a pulimento il pezzo di legno ma nel mentre che lo piallava in su e giù sentì la solita vocina che gli disse ridendo smetti tu mi fai il pizzicorino sul corpo questa volta il povero mastro ciliegia cade giù come fulminato quando riaprì gli occhi si trovò seduto per terra il suo viso pareva trasfigurito e perfino la punta del naso di paonazza come era quasi sempre gli era diventata turchina nella gran paura